In queste ultime ore, un gossip ha colpito Giulia e Pierpaolo. I prelemi starebbero pensando al matrimonio. Almeno questo è quanto riportano i rumors sui social. Ma cosa ha scatenato una tale diceria? Sembra che all'origine di tutto sia stato un post pubblicato sulla pagina Instagram Prelemistar, dedicata all'influencer di origini iraniane. Nel post si legge, i prelemi non commentano ma il gossip ne è certo. Presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all'altare. Una considerazione che ha scatenato le fan, ma ad attirare l'attenzione è stato principalmente un like, quello proveniente dal profilo ufficiale Instagram di Pierpaolo. Il like ha inevitabilmente alimentato i sospetti che il gossip sia proprio veritiero. Giulia, Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno organizzando il matrimonio. Al momento non vi sono conferme ufficiali, ma sono in tanti a sperare che questa notizia a breve possa avere una conferma.